Una grande serata per Caselle Torinese dove pochi minuti fa è stata presentata la squadra della Don Bosco Caselle che parteciperà al campionato WISP. Qui con noi abbiamo il mister. Mister, cosa vuol dire allenare questa squadra? Vuol dire un sacco di cose, vuol dire allenare un gruppo di amici, che non è una cosa semplice, vuol dire allenare un gruppo di ragazzi che provano a fare, a dare del meglio e quindi proveremo fino in fondo a raggiungere l'obiettivo finale che sarà, speriamo per tutti noi, la vittoria del campionato. Quest'anno avete fatto una scelta di mantenere l'ossatura della squadra dell'anno scorso con qualche innesto nuovo? Sì, sicuramente abbiamo preso dei ragazzi nuovi che sono arrivati e ci daranno una grande mano ma l'ossatura sicuramente rimarrà stabile con il capitano che è qui con noi e altri ragazzi che sono con noi da molti anni che ci daranno una grossa mano a portare avanti questo progetto. Capitano, essere l'anima rappresentativa in campo e fuori di questa squadra è una cosa importante? Sì, è un orgoglio perché comunque lavoriamo anche per questo traguardo, questo obiettivo, abbiamo tutti famiglia, tutti impegni, tutti lavoro e comunque cerchiamo di ritagliare dello spazio per fare questo sport che amiamo e che condividiamo tutti insieme come una famiglia e non solo come una squadra, ma proprio come una famiglia. Quindi sono orgoglioso di essere il capitano di questi ragazzi che in primis sono miei amici. Quanti anni è che giochi per la Domosco Aselle? Nove anni. Per cui oramai possiamo considerarti uno dei veterani? Sì, 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 sì. Anche questa è una cosa di cui sono fiero perché vuol dire grande impegno, grande sacrificio e ne vado orgoglioso. Cosa ti senti di augurare ai tuoi ragazzi quest'anno? No, quest'anno dobbiamo assolutamente vincere il campionato. Il nostro obiettivo, il mister lo sa, noi ci crediamo, siamo partiti bene e assolutamente vogliamo arrivare fino in fondo e vincere e toglierci questa soddisfazione. Mister, in chiusura, il campionato è duro ma ce la potete fare? Il campionato è durissimo anche perché noi non siamo abituati a fare un campionato con così tante giornate, però abbiamo l'ossatura, abbiamo i ragazzi per permetterci di arrivare fino in fondo. L'importante è che arriviamo fino in fondo, che se non raggiungiamo l'obiettivo ma siamo consapevoli che ce l'abbiamo messa tutta e l'importante è quello. E basta. Buon campionato. Grazie. Luca Baracco, presidente della Domosco Caselle. Sì, buonasera. Innanzitutto desidero ringraziare l'associazione commercianti artigiane di Caselle perché ci hanno permesso nell'ambito di questa bella festa della Notte Bianca Caselle in Festa di presentare la nostra squadra di calcio undici che militerà nel campionato WISP del nostro territorio. Un campionato importante, la gente c'è perché i ragazzi sono carichi. Come presidente cosa augura a questi ragazzi? Ma guarda, innanzitutto auguro di divertirsi. Lo scopo per cui è nata l'associazione Domosco Caselle è quello di fornire un'opportunità a tutti quelli che lo desiderano di praticare sport in un clima di amicizia. Per cui io ho il primo augurio che faccio è quello di divertirsi. Se poi divertendosi arriverà anche qualche risultato, cosa che auspico e che credo, bene, ben vengano e sarà ancora una festa più bella. Sempre parlando dei risultati, in caso di vittoria finale che cosa promette questa squadra? E beh, faremo una bella festa e mi toccherà sicuramente offrire una pizza a tutti i nostri atleti almeno. Assessore, ecco lo che arriva. Assessore, buonasera. Assessore, buonasera. Grazie.